Ciao, siamo Hermet Ricci e Luca Imperiale, autori del corto che state per vedere. Camera Oscura è un progetto ambizioso, nasce nel 2008 a dicembre, è stato poi girato a febbraio del 2009 ed è ambizioso perché è un noir, non solo un noir ma è anche qualcosa che si avvicina al fantascientifico nella rivelazione che poi è al finale di tutto il corto. Perché si intitola Camera Oscura? Si intitola Camera Oscura perché il protagonista del corto, Leon Castaldi, interpretato da Fabio Ghidoni, è un fotografo investigativo e di conseguenza è il luogo dove si sviluppano, perlomeno si sviluppavano prima dell'avvento del digitale le fotografie, la Camera Oscura. e nello stesso tempo Oscura è la camera dove lui scatta il servizio fotografico per un committente ignoto e Oscura perché non si sa quello che avviene realmente. L'idea come nasce? Sono sempre stato sinceramente affascinato dall'idea che la stessa persona si potesse trovare in due luoghi diversi allo stesso momento e nel dicembre del 2008 insieme appunto a Luca, Alessandro e Federico siamo riusciti a creare una sceneggiatura, una storia che funzionasse, che potesse permettere questa situazione. Quello che ci piaceva poi mettere sotto la luce dei riflettori è l'ambientazione, è questa postmodernità romana, quella che non è sulle guide turistiche dove si muovono i nostri personaggi, e quindi che so, la tangenziale, il trenino Roma-Pantano che passa sulla Casilina, la fabbrica abbandonata, già è comunque una scenografia molto suggestiva e quindi ecco, per mantenere le tinte cupe e perché Camera Oscura e Noir ci siamo comunque mossi in questa situazione. Ma comunque è un film che non si capisce alla prima volta, almeno quasi nessuno riesce, quindi è un film che vuole essere visto più volte, è un film che vuole lasciare il pubblico indeciso, il pubblico confuso, con la volontà e quindi con la necessità, la necessità ben accetta di doverlo vedere una seconda volta per capire fino a fondo i meccanismi che sono alla base, alle fondamenta di Camera Oscura.